Siamo pronti al lancio, ricevuto Siamo pronti al lancio dell'Apollo meno 13 alias Napoli e dell'Apollo meno 20 alias Inter 20 secondi alla partenza Ricevuto Partiti Sto appena guardando il radar Sì sì, il Napoli e l'Inter hanno lasciato appena adesso l'orbita terrestre in questo istante Sì sì, i due puntini si intravedono qui sul radar Si stanno allontanando, comandante, sempre di più Sono appena usciti dall'atmosfera Siamo ancora qui Sì sì Niente, non dicevo bene il segnale, l'abbiamo perso Sì, abbiamo perso sia l'Apollo meno 13 Napoli L'Apollo meno 13 e l'Apollo meno 20 sono già arrivate a Marte Sì Si No No Io qua stavo partecipando a questa missione di lancio di questi due razzi Che hanno lasciato da poco la terra Ma niente da fare Subito dopo il lancio C'erano Qua c'erano i nostri vice americani che ci hanno comunicato Ci comunicavano se io li vedevo sul radar Ma niente da fare Sono scomparsi proprio dalla mappa Non ci sono più Speriamo bene dai Comunque Vi è piaciuto questo lancio? Ciao Apollo 13 Napoli E ciao Apollo Anzi Apollo meno 13 E Apollo meno 20 Vi salutiamo Siete grandi Hahahaha